I venti alisei sono dei venti costanti che li possiamo trovare nelle zone equatoriali e sono caratterizzati dal fatto che a parte essere permanenti soffiano anche sempre nella stessa direzione e quindi nell'emisfero nord li troveremo a soffiare da nord-est e nell'emisfero sud da sud-est. Inoltre i venti alisei hanno avuto un ruolo molto importante nella storia proprio grazie ai venti alisei che Cristopro Colombo riuscì ad arrivare in Sud America. Grazie a tutti. Allora e benvenuti a questa nuova puntata di Ali 6. Io sono Coppa e nella puntata di oggi vi accompagnerò nel regno molto molto particolare di ciò che avviene dopo che chiudiamo gli occhi. Stiamo parlando quindi del mondo dei sogni, di ciò che accade di notte e a costo di sembrare tedioso io non smetterò mai di consigliare l'utilizzo di cuffie, quelle con i padiglioni insomma per meglio isolarvi e farvi trasportare dalle magiche atmosfere di questo programma e allora io direi che possiamo colicarci, chiudere gli occhi e partire. La giornata sta volgendo al termine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le ultime luci tinta pastello si sopiscono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il crepuscolo lascia spazio alla notte che avanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo gli occhi chiusi ma siamo in uno stato di veglia. Grazie a tutti. 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 Siamo in piena attività alfa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti L'attività alfa diminuisce Grazie a tutti I movimenti oculari Sono ancora presenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti